You think you know me? dal presupposto più semplice di tutti la promo Huawei che è la cosa più semplice nel senso da ricordarsi Huawei partirà dalle 11 di mattina di mercoledì fino alle 11 di mattina del venerdì che poi probabilmente in realtà si protrarrà di poco più quindi occhio abbiamo bene il 20% di cashback e che non è male perché perché c'è l'incubo in questa pace c'è la cosa che tutti noi odiamo vabbè c'è chi lo ama c'è chi la odia comunque è una delle cose che ha un valore migliore nello shop del gioco questo ok però sotto nei commenti poi mi direte chi lo ama perché sono curioso prego palmi che è il nome il treasure hunter prima di parlare di questo allora il banner di mercoledì lo conosciamo ne abbiamo parlato arriva a Quariuccio allora partiamo dal presupposto che lo sappiamo il gatto arriva lunedì quindi se avete la possibilità di fare le 40 al giorno bene se no state buoni vedete venite a vederlo vi ricordo domani quindi giovedì in live alle 21 sul sito viola lo proviamo proviamo qualche cosa ambigua e vediamo se veramente ne vale la pena anche perché comunque è strano come personaggio in sacred si è potuto vedere poco e nulla come avete visto dei video questo polaretto io spero che non debba essere sciardato ma vedremo comunque se qualcuno mi sa dire perché io la pace non posso averla sarebbe credito però per fortuna ci ha pensato Pala ecco a noi la pace prego Pala a parte la Temel Summon cosa ci dice questa meraviglia? allora bandiamo al punto 2 New Saint Divine Camus e fin lì New Cloth New Butterfly con una E tipo iPhone non si capisce perché ma ok praticamente arriva Fridz Team 2.0 e arriva uno delle sue counter nella forma di Mew con Repair Cloth è un Repair Cloth abbastanza interessante lo proveremo e lo vedremo lo rende molto più giocabile non lo so sospendo il giudizio finora ma proveremo tutto che cosa cambia? allora intanto che partono le feri dopo 3 farfalle non dopo 4 gli buffa di più l'attacco e mette una farfallina su quello che ha colpito ah gli buffa l'attacco e le feri successive hanno un target in più ogni volta aumenta questa è la prima cosa diventerà di nuovo il mio ingo quindi però la velocità di aprirsi rimane uguale la velocità di aprirsi rimane uguale accumula più velocemente all'attacco delle feri e ha due meccaniche quando fa volare le feri e le può far volare da qualunque forma non solo dalla farfalla quindi se si accumulano prima la forma precedente partono appena partono sul team avversario resta una farfallina su chi ha colpito quella farfallina ruberà buona parte dell'ealing del team fino a un massimo di 6 volte mi sembra o quelle 6 volte invece di far curare gli avversari curerà lui stesso e farà dei contrattacchi insomma farà un sacco di cose che si capiranno malissimo farà quello che ha sempre fatto in tutta la sua vita rompere i coglioni pesantemente lo farà meglio ecco allora pensate che appunto è un anti-healing è giusto sotto l'ultimo video parlavate di anti-healing ecco l'hanno dato contenti l'anti-healing è un po' scarso però sì è vero però comunque è un inizio in più come hai detto te blocca le meccaniche di controllo perché lui è sempre il solito immune però il suo problema era che era un po' lento non a trasformarsi gli rimane la stessa cosa che prima l'ho pensato anche io però poi ho pensato una cosa ormai a parte Saori e le varie cure smoderate che ci sono in questo gioco anche il resto perché tipo il bleed sono tutti doppi turni ah beh sì e tutte le Atene R.C. cose sono doppi turni quindi insomma le cure che l'avevi si l'ha aumentato il danno quindi torna ad essere competitivo su quel fronte poi ora come ora Hypno si usa poco quindi c'è una counter in meno è quasi impossibile ficcare ora e quindi questo ci prende ma Toro proprio fa male a tutti Toro infatti è reincontrastato in questo momento del meta a parte del solito Shion che va bene però Toro sarà sempre più utile nel dubbio mi sa che io ve l'ho avuto lì ma se dovete scegliere tra le due cose fatevi Mew non fatevi Acquario allora Mew è sul sicuro è questo anche perché ce la dovreste avere già schillato dovrebbe essere più semplice tra tante virgolette trovare i pezzi con il fatto che adesso hanno tolto i B e IA insomma non è infattibile è vero però dovete avere una bella scorta da parte però è tipici sicuro quindi è complicato ma andiamo al punto 3 ok ha sempre il suo punto c'è anche la skin ah giusto perché quella che volevo parlarne è il Treasure Hunter perché tanto il Treasure Hunter ci porterà un selettore suo probabilmente e la sua cazzo di skin che il settore forse di Camus no no il volume il settore di RG ah il settore dell'armatura che poi armatura parolone per quella roba va bene ma la domanda vera è qual è il cosmo perché tanto la skin la vedremo 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 sarà probabilmente l'Eaven and Earth barra selettore con quello e qualcos'altro o magari un cosmo nuovo non annunciato perché tanto spesso queste cose effettivamente poi cos'altro avremo vabbè allora il volume di acquario il recharge volume che come sappiamo vale solo per gli SS e gli X quindi vabbè se proprio siete a corti risorse ma essendo Camus ha anche un PG che non vuole skill altissime rispetto ad altri pensateci bene recuperatevi in un edì per lo skillaggio fate prima la Will of Fortune che come al solito sperabilmente non avrà le skin anche se e vabbè avrà un po' di risorse vi consiglio di fare i tiri gratuiti è abbastanza tranquillo Rebeer Twish che è quasi sicuramente il blessing of rank reincarnation ovvero i cosmi doppi quello con le pietrine quello che invece ne dà tre diversi perché c'era anche quell'altra varianza allora può darsi però l'hanno fatto una volta e non l'hanno più portato se tornasse qualche blu interessante ci sarebbe tirare qua è vero quello per i blu sarebbe top c attack life steal c damage subito si madonna o yield comunque si un sacco di cose poi sanctuary book di una settimana il sanctuary records si sono accoppi hanno capito l'errore dell'ultima volta ce l'hanno fatta vabbè comunque vedremo una volta che il gioco apre se l'hanno capito davvero o no il fortune cat che appunto parte da lunedì quindi dal penultimo giorno di camus divine gold assembly allora gli eventi assembly sono quelli che puoi fare ogni giorno tre roll su una slot machine che dà premi più assortiti più o meno equalizzati ma quando è fatto 15 roll ti dà un volume del personaggio del banner quindi un evento gratuito straottimo forse lì parlando di divine gold potrebbe essere un selettore di volume tra i cavalierini no volendo potrebbe potrebbe nel divine no sicuramente c'è acquario ma potrebbe essere solo acquario o un selettore di pergamene di tutti però il multoro è vero e in più io vi ricordo di controllare adesso sul facebook perché l'abbiamo postato perché siamo tornati attivi anche sul gruppo facebook quindi riandateci però lascio in descrizione è arrivata la notizia che è arrivata l'rc di sirio ma ne parleremo in un prossimo video però lui non è gold quindi sicuramente non è lì in mezzo hai ragione io mi ero fermata da divine hai ragione niente fateci indire non ho detto niente per il selettore suo e poi abbiamo lì treasure hunter che avrà qualunque cosa dentro di buono e vi spingerà a scioppare sarà la skin di mew skin di mew allora proviamo a indovinare yes skin di mew sicuro cosmo probabile selettore dell'rc selettore di acquario volume volume di acquario secondo me volume di acquario e anche tommy blue ok secondo te tommy blue quindi 5 o gem ricordatevi comunque che fa vedere 4 premi nell'interfaccia o 6 non mi ricordo ma si può scorrere di solito c'è qualcosa in basso che è solitamente il selettore dell'rc o l'ultima volta coiki fu la skin quindi allora il pvp vabbè la settimana del pvp col boss di Poseidone ottimo ma perché sotto nei commenti sono tutti incazzati che non c'era pvp se gliel'hanno messo mi li dico gliel'hanno messo due settimane come sempre qual era il problema allora no è perché allora c'è una piccola cosa la gente fa ah ma avete scritto che è pvp ma è pvp io non l'ho fatto perché non l'ho capito allora ragazzi premessa l'evento si chiama pvp mi li perché è un pvp è sempre un pvp anche Poseidone voi in realtà siete in una competizione fuffa contro l'altro giocatore per i danni si si vede che è un pvp perché parti da due energy e non da quattro come nel pve l'evento si chiamerà sempre pvp mi li poi alcuni temi sono contro un boss sono de facto pve ma il nome dell'evento resta pvp mi li quindi ogni volta controllate che evento è fatevi un favore grazie no no più che altro allora la descrizione esatta l'hai detta prima secondo me ormai la dicitura pvp pv la usano unicamente per il numero di energy che ti danno al primo turno ormai penso che sia unicamente su quello comunque Q&A rapido e indolore e Q&A è abbastanza inutile perché non riguarda la nostra lingua allora no vabbè allora ma in realtà anche in inglese c'è questa cosa forse il punto 2 sì ma chi lo sa del ventiduesimo giorno di login no no era sempre per un'altra lingua ve lo spiego meglio allora Poseidone intanto ha avuto un aggiornamento di skill e nella maggior parte del testo c'è ci sono i dati nuovi in alcune parti semi nascoste che si possono aprire ci sono le cose vecchie tipo lo status hit sul blizzard da una parte c'è la percentuale nuova dall'altra quella vecchia sono un po' lamentate giustamente però posso far presente che questo c'era pure in inglese da un pezzo sì sì da una vita la seconda parte è praticamente tipo in portoghese sul box dell'rc del login c'era scritto che c'era anche pavo maiura ora a parte un po' di buonsenso vi pare che nel login vi danno l'ultimo rc disponibile vi danno 3 4 5 indietro quindi una lingua era scritto sbagliato la gente poi non ci ha trovato dentro e si è lamentata però sinceramente essendo pablita potevano anche farlo sto sforzo e invece no ve la dovete guadagnare strano sempre con i genitori non ti danno neanche da scegliere è complicata lei eh sì è vero è una donna complicata effettivamente comunque ragazzi questa era la patch note io vi ricordo che domani uscirà il videopull e la sera ci vedremo sul sito viola quindi sono una volta giovedì cosa no giovedì no? sì giovedì infatti ho detto quindi la sera di giovedì intendevo ci vediamo ah ok ho capito questa sera però no 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 in più ultimo abisaia perché venerdì uscirà un video particolare in collaborazione con un ragazzo dei god per quanto riguarda il pwe saranno il legend boss che non trattiamo da 15-18 anche perché è rimasto lo stesso o per il 90% di noi beh incluso è in auto però essendo che sia gente che effettivamente lo fa e Pala ha spiegato i motivi per farlo e mi ci ha fatto venire pure un po' di voglia ve lo portiamo perché così mi aggiorno anche io quindi un grazie per averlo chiesto nei commenti e io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi domani ciao ciao ciao